Salve a tutti, bentornati su Terre Siciliane. Oggi siamo col quinto incontro di chi è uso al campo, non vada alla corte. Noi siamo ormai avviati in un percorso di continuo aggiornamento su questo progetto che va molto bene, devo dire, e che non è soltanto una serie di video conoscitivi per cominciare ad agire effettivamente sul territorio e cambiare le cose, ma è soprattutto un qualcosa che poi ha una sua traduzione, una messa a terra nella vita reale. E quindi io ringrazio moltissimo tutti coloro che stanno rendendo possibile la realizzazione di questo progetto, a partire dalle tre magnifiche donne che mi hanno coadiuvato in questo progetto, e quindi Diana, Barbara e Valeria, che hanno raccolto tutti i contatti e che stanno anche partecipando poi a quello che sarà la creazione del sito web che presenteremo dopo in forma di layout. Ma poi soprattutto è anche avvenuto un primo incontro in coincidenza di un evento che c'è stato in provincia di Milano, un incontro in presenza che ha visto la partecipazione di alcuni agricoltori che hanno parlato già nelle scorse puntate in compagnia di Barbara Banco. Quindi io chiedo a Diana, che era presente anche a Barbara, di volerci parlare di questa esperienza e di dirci un po' com'è andata. Tutto è nato dal nostro incontro con gli agricoltori sui presidi. Uno di loro ha questa azienda agricola Zanzottera e ha anche un agriturismo che offre spazi, quindi per le conferenze, oltre ad altri, quindi a cucinare per chi prenota e soprattutto durante le feste o le cerimonie. Allora ho chiesto se erano disponibili, se c'era disponibilità per quel giorno e loro ho mandato la disponibilità della sala per la conferenza e anche la disponibilità a cucinare per noi un pranzo ad un prezzo ragionevole, prodotti buonissimi. E quindi abbiamo organizzato questo evento. In concomitanza sono partite le nostre registrazioni. All'inizio erano interviste a più voci degli agricoltori, poi sono diventate ricerca di soluzioni insieme e così abbiamo continuato fino a mettere in piedi questo mercato agricolo che sarà attivo tra poco, dove su ogni terra, come ha spiegato Barbara la volta scorsa, verranno inseriti i produttori locali. Poi Joe stasera ci farà vedere come funziona invece questo sito vetrina per la ricerca dei produttori locali o semplicemente dei produttori in tutta Italia di un prodotto particolare che ci serve, che magari non è disponibile dai produttori locali intorno a noi. C'è stato un incrocio tra l'organizzazione di un evento divulgativo di Barbara Banco sulla legge naturale e su come uscire dal sistema in legge naturale e nello stesso tempo abbiamo voluto provare a organizzare questo mercato in quel luogo che era Santo Stefano Ticino in provincia di Milano, raccogliendo delle prenotazioni tra chi veniva a partecipare all'evento e abbiamo raccolto parecchie prenotazioni. Siamo arrivati a circa 180 kg di agrumi, piuttosto che una cinquantina, credo, di chili di farina e di pasta e un nostro caro amico di terra laziale, Riccardo, sapendo dell'evento ci ha omaggiato dei suoi kiwi, 15 casse, quindi il magazzino dell'agriturismo era pieno di casse, di prodotti, pasta, agrumi, kiwi, bottiglie di vino... olio che ci è arrivato sabato e abbiamo visto che si può fare. Certo, ci vuole un po' di organizzazione sia nel raccogliere le prenotazioni e poi nel gestire la distribuzione. Ecco, questo è stato, diciamo, si è concluso tutto con ieri, questo mercato virtuale che è diventato poi reale, perché i prodotti sono arrivati a chi li aveva ordinati e adesso aspettiamo che ci dicano come sono, se sono piaciuti o meno. Mi allaccio un po' a quello che ha detto Diana sul fatto dei kiwi, del vino, perché è l'esempio della gratuità manifesta, per cui questo dono che ci è stato dato, è il primo esempio della gratuità che noi condividiamo con tutti. Abbiamo un po' dato l'annuncio che poi è stato registrato anche, per cui lo vedremo nella registrazione dell'evento, che appunto stiamo creando questa cosa del mercato, questo mercato parallelo a quello del sistema. E la cosa importante è che noi siamo un popolo che ragioniamo in modo diverso dal sistema, agiamo in modo diverso dal sistema, per cui abbiamo anche spiegato la questione delle offerte, cioè il prezzo del prodotto in più l'offerta. E Barbara ha spiegato appunto il fatto, il valore dell'offerta, il valore dell'agricoltore, una serie di cose molto importanti che sarà modo anche nostro di far conoscere anche ad altra gente che non è autodeterminata questa nuova modalità di acquisto di questi prodotti che gli agricoltori pensano alla nostra salute. Io concludo così ringraziando veramente Matthew e Riccardo per il loro esempio e vediamo come sviluppare questo progetto che fa parte del popolo del Noie, ma si allargerà anche al resto del popolo. Dovremmo solo avere un po' di pazienza ed educare a questa nuova modalità di acquisto con questa cosa dell'offerta che poi mi sembra che Joe avevi anche un intervento di Stefano. Non so se è il caso di mandarlo adesso visto che stiamo parlando a cosa. Sì, certo, lo mandiamo adesso. Grazie. Grazie a te. Infatti mi dai un perfetto assist perché era proprio quello che volevo condividere e ve lo faccio ascoltare perché Stefano Cagnellutti che è un'anima del Noie sta attivamente collaborando proprio alla realizzazione del sito però durante questa chiacchierata che abbiamo fatto proprio pochi giorni fa insieme a Barbara abbiamo proprio raccolto delle sue impressioni sulla sua esperienza vissuta ultimamente proprio riguardo a questo concetto dell'offerta e anche della gratuità e che secondo me è interessante anche ascoltare dalla sua viva voce quindi condivido un contributo video che abbiamo registrato insieme a Stefano. Grazie di essere qua Stefano. Allora tu mi parlavi di che hai fatto esperienza su quello che riguarda il dono e la gratuità nell'esperienza tua di vita e di questi ultimi anni grazie al percorso di autodeterminazione ecco ci vuoi dire meglio come funziona? Sì praticamente allora intanto spiego che cos'è il mio lavoro io sono un tecnico in generale diciamo per rendere cose più semplici che sono un tecnico sui computer allora io negli ultimi anni invece di chiedere soldi ho abituato i clienti a farmi delle offerte e come lavoro io? Ovviamente ci sono vari problemati sui computer se si prendono delle schede c'è un costo materiale quindi quello devo farlo pagare per forza però quello che riguarda la manodopera che non è un costo per me non è un costo è una donazione di tempo ok? Io faccio in questa maniera qua metto a disposizione ogni mese per esempio 1000 euro e decido che questi 1000 euro li uso per aiutare quindi quando lavoro io ho un budget mensile di 1000 euro riparo un computer e mi chiedono quanto devo? Io dico io di solito non chiedo soldi metto a disposizione un tot al mese fino a quando ci sono posso aiutare poi mi fermo se qualcuno fa una donazione praticamente questo budget torna a riempirsi quindi io posso aiutare di più facendo in questo modo qui ho notato praticamente che se prima per una preparazione chiedevo per esempio 50 euro mi rispondevano sempre ma così tanto invece se non chiedo niente mi trovo io ho richiesto 20 euro invece mi danno 50 euro è contrario alla fine del mese praticamente senza chiedere mai niente senza chiedere soldi guadagno tranquillamente e posso guadagnare vivo tranquillamente perché poi con gli anni ho trovato un equilibrio col mio lavoro quindi se c'è qualcuno che è in difficoltà che vedo che è in difficoltà io gli dico semplicemente no ancora che mi paghi perché io oggi ho già guadagnato quello che mi serve vedo che sei in difficoltà non importa a me piace perché ti vedo sovidere un domani se avrai la possibilità in caso mai mi dai qualcosa succede anche questo succede che non hanno soldi perché ci sono delle realtà che non hanno soldi e poi magari dopo una settimana mi mettono 20 euro nella buchetta delle lettere perché quando lavoro in gratuità praticamente si accendono altri valori perché si accende l'amore diciamo con le persone praticamente si sentono in debito se tu non chiedi niente e poi con gli anni con la selezione ovviamente perché quando tu hai di fronte delle persone se sono furbi ti accordi si approfittano ovviamente se tu hai lavoro perché io lavoro noto tutto il giorno andai prima a operare con chi si comporta onestamente e dopo con quelli che fanno i furbi e quelli che fanno i furbi non hanno l'assistenza da me hanno assistenza a tutti quelli che non hanno soldi perché so che hanno difficoltà e hanno assistenza a quelli che invece si comportano onestamente la gratuità praticamente per me è questo e va fatta ovviamente con gli anni perché bisogna trasmettere bisogna selezionare non è una cosa che viene immediata allora per questo motivo anche sul portale avevamo pensato di mettere questa forma di offerta di partenza l'offerta di partenza praticamente è il costo di produzione che un'azienda ha che comprende tutto perché un'azienda può avere più o meno dipendenti ha più spese o meno spese il prodotto ha un certo costo più una donazione quindi quando si produce si decide che questo prodotto ha questo costo e poi c'è l'offerta che chi acquisisce chi compra mette in più poi nel mese si fa la media se le offerte sono state buone uno può anche decidere il mese dopo di abbassare il prezzo di partenza perché ovviamente ha avuto un ritorno più alto quindi può abbassarlo e in questa maniera il prodotto diventa più economico per quelle famiglie o quelle persone che sono in difficoltà economica anche questa è una cosa che va fatta un po' alla volta questo era per spiegare il concetto che stiamo cercando di mettere nel portale bene Stefano quindi a me sembra che questo vada a creare uno scenario nuovo e quindi rimette in discussione il concetto stesso di valore che non è più legato a una valutazione oggettiva che parte dal chi offre il prodotto il servizio e di chi compra e che quindi è un valore riconosciuto solo nell'ambito di queste due entità ma che si allarga in maniera solidale anche a tutta la comunità perché lì dove tu puoi in qualche modo avere avuto dei guadagni in più vai a a compensarli diciamo a vantaggio di altri che magari non possono permettersi l'acquisto di quel prodotto in quel momento e quindi puoi offrirglielo un prezzo più basso e poi c'è anche il fatto che questi che si sentono un po' in chi ha avuto il beneficio di avere un servizio o un prodotto da parte tua senza aver pagato nulla al momento di averlo ricevuto può poi fare un'offerta successivamente e quindi in tutti i casi c'è una sorta di riequilibrio delle energie dei valori messi in campo che secondo me poi rispettano un po' i flussi della legge naturale non trovi? esatto ma questa è una cosa che avviene perché noi siamo abituati a ragionare con i soldi invece io non ragiono più con i soldi ho imparato a ragionare con l'amore cosa significa questo? che io quando vado a riparare qualcosa mi piace vedere risolvere il problema vedere la persona l'uomo che ho davanti la donna che ho davanti sorridere che quello è il bello perché risolto il problema e questo non ha prezzo se tu e quando chiedi i soldi se io ho riparato e chiedo 50 euro mi chiedono seri non sorridono invece se non chiedo niente sorridono e mi danno quello che possono ma non sanno calcolare perché nessuno è abituato a calcolare ci saranno lo calcono in base al loro benessere se loro stanno bene economicamente mi sembra poco dare 20 euro e quindi danno 50 se invece loro hanno molta difficoltà io gli dico guarda che non serve che mi dai niente perché io oggi ho già guadagnato quello che mi serve quindi posso anche andare via senza niente non ti preoccupare quando avrai hai la possibilità di questo per darmi non ci sono problemi l'importante è che ti vedo sorridere io lavoro così bene bene grazie grazie Stefano grazie a voi bene abbiamo ascoltato dalla voce di Stefano questo concetto in cui ci ritroviamo molto effettivamente ed è il motivo per cui abbiamo deciso di inserire questa modalità nel nel concetto del sito che adesso vado a presentarvi adesso noi siamo ancora in una fase per così dire di impostazione generale quindi quello che vedete qui è semplicemente una simulazione di quello che potrebbe essere il sito del mercato agricolo del popolo del Noie che stiamo apprestandoci a a programmare e a mettere in pista immaginate ecco tenete conto che questo è semplicemente un layout quindi magari cambierà di aspetto cambierà qualcosa in quello che vedete non prendetelo come una versione definitiva ma semplicemente come un punto di partenza di questo progetto che non è un e-commerce quindi il solito sito di vendita online dove è possibile sia ordinare che pagare un prodotto che poi ti viene spedito a casa ma è semplicemente una piattaforma che mette in contatto i produttori gli agricoltori in questo caso e il popolo secondo delle modalità appunto che sono diverse da quelle di un e-commerce anche perché poi una volta cercato il prodotto che io voglio ricevere a casa non vado ad effettuare il pagamento ma semplicemente prendo contatto con il referente dell'azienda gli mando una mail oppure gli telefono o gli mando un messaggio telegram e questo sarà diciamo il canale di comunicazione attraverso il quale avverrà lo scambio concretamente tra chi compra e chi vende quindi come avete capito è una modalità di di rapporto completamente diverso da un e-commerce classico allora questa che vedete è la home page iniziale che è pensata più come un motore di ricerca dove abbiamo nella parte in alto a destra un campo testo dove potrà essere messo la parola chiave di quello che cerchiamo potrebbe essere non so olio uova riso patate arance e così via nella parte invece in basso vedete la strutturazione per piazze divise per terre noi in questo caso ne abbiamo ipotizzate otto ma ovviamente poi ci saranno tutte le altre piazze italiane che via si aggiungeranno quindi queste quadratini che vedete so accanto a ciascuna delle piazze sono dei quadrati diciamo delle caselle di selezione per cui io posso scegliere per esempio di cercare non so arance e selezionare le piazze non so di terre siciliane terre campane terre laziali e tralasciare le altre e vedere solo da questi il diciamo i produttori che mi vengono fuori ma poi posso anche usare altre quattro modalità di selezione che sono il tipo di prodotto quindi anziché metterò la parola chiave posso sceglierlo da un elenco che viene a essere visualizzato da un menu a tendina scorrimento verticale potrei scegliere per tipo di trattamento e poi vedremo dopo di cosa si tratta potrei sceglierlo per metodo di scambio che appunto è o vendita attraverso il classico pagamento in euro oppure baratto oppure libera offerta e poi potrò scegliere anche sul metodo di consegna quindi ipotizziamo che sostanzialmente facciamo un nuovo annuncio ipotizziamo che l'agricoltore Mario Rossi abbia deciso di aderire a questa piattaforma si registra e cliccando qua sul nuovo annuncio entra in un form vero e proprio che è diviso in tre parti la prima parte è una parte anagrafica dove chi si registra potrà mettere il nome azienda il nome referente anche perché non sempre il coltivatore è in grado di gestire questo tipo di comunicazioni perché ovviamente durante il giorno ma anche il pomeriggio lavora la terra e quindi non ha del tempo per dedicarsi direttamente ai rapporti di vendita e allora molto spesso delega un referente che può essere la moglie la sorella il figlio il fratello eccetera oppure un collaboratore o una collaboratrice che viene indicato qui come il referente col quale puoi stabilire il rapporto di scambio e poi ovviamente l'azienda o l'agricoltore avrà la possibilità di inserire il proprio indirizzo via numero cap città numero di telefono e mail la provincia la terra di provenienza il nome utente telegram e una breve descrizione dell'attività e questo è il primo passo il secondo passo è quello che è relativo al prodotto in questa seconda maschera in questo secondo form potrò introdurre il tipo di prodotto scegliendolo da una menu a tendina selezione l'anno di produzione del prodotto la breve descrizione del prodotto il tipo di trattamento che abbiamo individuato in industriale biologico e interamente naturale in funzione del livello di uso di sostanze chimiche e poi una possibilità di aggiungere la descrizione del trattamento non secondo le certificazioni imposte dal sistema che sappiamo essere quelle che tutti voi siete di cui siete a conoscenza ma che sono invece stabilite secondo coscienza e onore in piena responsabilità individuale nei confronti del popolo da parte dell'agricoltore o del produttore che mette in vendita il proprio prodotto quindi in questa parte verranno raccolti tutti i dati che poi saranno visualizzati nella scheda prodotto terzo e ultimo step invece riguarda l'offerta vera e propria quindi una volta avendo compilato l'anagrafica che raccoglie i dati dell'azienda una volta avendo inserito i dati del singolo prodotto mi trovo in questa terza parte del form in cui posso inserire qua l'offerta di partenza come dicevamo quindi che può essere libera offerta oppure se voglio invece stabilire un prezzo fisso posso sempre mettere il classico prezzo in euro il prodotto potrà essere espresso al chilo al litro o al pezzo posso aggiungere delle note opzionali che riguardano per esempio che questa offerta verrà fatta al mercatino in piazza a tale città a tale giorno oppure potrà essere offerta tramite un sistema gas oppure tramite punti di raccolta fisica sul territorio o nella modalità che penso possa essere quella più frequente invece spedizione via corriere le ultime funzionalità che si possono selezionare sono il metodo di scambio abbiamo individuato tre ma ripeto sono delle proposte che poi possono essere arricchite e modificate anche successivamente e noi abbiamo previsto per il momento baratto moneta quindi nel caso in cui c'è una valutazione oggettiva classica in euro oppure scambio di valore metodo di consegna chilometro zero mercatino locale vettore o rete ominet questo perché vogliamo intrecciare questo sito con la rete ominet che come sappiamo all'interno dell'OIE è una rete umana fatta di scambi fisici di uomini e donne che si spostano lungo il territorio e che possono negli spostamenti trasformarsi in vettori per trasportare oggetti merci e così via è stata una rete pensata anche in caso di crisi di qualsiasi tipo per esempio in assenza di internet poter comunicare attraverso i walkie talkie oppure dare assistenza di qualsiasi tipo in assenza di altre mancanze di servizi eccetera ecco una volta fatto questo ho completato i tre passi della form a questo punto pubblico e mi troverò come agricoltore all'interno della mia scheda azienda che verrà pubblicata con il nome dell'azienda l'indirizzo l'indicazione della piazza in questo caso ipotizzato piazza delle terre lombarde il numero di telefono l'email il nome utente di telegram la descrizione dell'azienda e i vari prodotti che avranno ciascuno una scheda qui abbiamo ipotizzato ipoteticamente nel caso di questa azienda della provincia di Milano la possibilità di offrire riso arboreo oppure del barbè dell'oltrepò pavese frizzante sono solo degli esempi ovviamente ma giusto per farvi capire che questi sarebbero diciamo le anteprime delle schede prodotto che poi si andranno a visualizzare all'interno del sito quindi una volta fatto questo nel momento in cui io dovessi scegliere di fare un ordine del riso arboreo di cui conosco la descrizione l'anno di produzione il tipo di trattamento eccetera eccetera non devo fare altro che diversamente dall'e-commerce tradizionale in cui c'è da una scheda carrello in cui poi pago e mi aspetto una spedizione a casa ecco questa parte qui noi volutamente la saltiamo non la vogliamo fare vogliamo che chi acquista stabilizzi un contatto diretto con l'agricoltore appunto attraverso tutti questi sistemi di comunicazione che sono il telefono l'email oppure l'account di telegram e quindi stabilendo loro un rapporto diretto la merce poi verrà consegnata i prodotti verranno consegnati direttamente al domicilio o nel punto raccolta o presso il mercatino insomma la trattativa poi diventa a quel punto una trattativa tra chi vende e tra chi acquista ecco questo è tutto non so se avete delle osservazioni degli spunti chiedo intanto a Barbara e a Diana ma anche agli altri qui presenti prego io volevo aggiungere una e per fare una precisazione questa che adesso abbiamo presentato che hai presentato è la parte tra virgolette dove l'agricoltore compila la sua scheda ma quando noi acquirenti noi consumatori vogliamo acquistare un prodotto come diceva prima Joe c'è la finestrella dove noi scriviamo che cosa stiamo per cercare per cui il vino ad esempio il vino selezionando le piazze dove vogliamo fare la ricerca possiamo farla anche su tutta la terra italica ma ci compariranno dal punto di vista dell'acquirente diciamo tutte le aziende che propongono quel prodotto per cui dopo sta a me verificare per per distanza per comodità per il tipo di trattamento selezionare l'azienda che sentiamo più più vicina a noi vicina nel senso non territoriale vicina come come esigenze proprie dal prezzo ripeto al tipo di trattamento a quello che sentiamo il nostro sentire un po' seguire il sentire e poi voglio precisare una cosa che gli agricoltori si assumono secondo quello che diceva appunto Joe le responsabilità di quello che stanno dichiarando in quella scheda per cui le leggi naturali sono molto presenti cioè nel senso si dichiarano una cosa deve essere quella se poi io ricevo una cosa che non corrisponde a quello che lui dichiara saranno le leggi naturali a provvedere sicuramente ma io magari decido di non usufruire più di quell'agricoltore cioè siamo comunque tenuti seguendo il nostro libero arbitrio alla scelta ecco volevo puntualizzare questa cosa che ci saranno proprio ci sarà la visualizzazione di tutti gli agricoltori che propongono quel tipo di prodotto quando il prodotto termina non hanno più riso non hanno più olio non hanno più vino in automatico verrà oscurato perché non è che sarà sempre presente e poi c'è ancora la proposta di identificare magari una volta alla settimana un prodotto particolare perché magari l'agricoltore in quel momento ha l'esigenza che deve svuotare il magazzino oppure per non deperire capisce che il prodotto magari sta subendo delle varie modifiche naturali lo propone magari con un prezzo inferiore ma sono tutte cose che ci stanno venendo in mente che mano a mano incrementeremo per cui come diceva Joe se c'è qualcuno che ha dei suggerimenti magari anche come esperienza personale infatti volevo parlare anche un po' Costella con chi ha da tanti anni magari usufruito di forme di gas o di altri tipi di forme di acquisto per incrementare questa nostra proposta grazie la cosa è questa dunque vabbè io volevo dire qualcosa per la gratuità ma vabbè lascio perdere è inutile per questa cosa qua potrebbe essere anche che quando uno ha una grande promozione diciamo e quindi secondo lui secondo il suo ragionamento quindi è riuscito tramite come si dice le prenotazioni a esaurire diciamo quello che per lui è il suo fabbisogno cioè quando ha completato le sue spese più quello che a lui serve quello che lui pensa che è il suo valore insomma potrebbe rientrare nel nostro ragionamento e dire io ho avuto dieci quintali di roba ne ho venduti otto sono rientrato nelle mie spese ci ho pure guadagnato questi due quintali li do in gratuità quindi a chi ne ha bisogno non lo so la modalità questa potrebbe essere una proposta diciamo questo ad esempio io lo faccio personalmente con quello che io faccio con il mio lavoro quando sono in un momento che sono nella stagione quindi lavoro bene dedico un giorno o due giorni dipende da me da come mi sento da dove devo andare da tante cose comunque decido che quel giorno è in gratuità cioè io vado dalla persona che mi aspettava gli faccio il lavoro e quando questo mi dice quanto ti devo dare io dico no guarda non mi devi dare niente perché io oggi questa è una giornata che io ho dedicato a te come gratuità punto ma questa è una storia che ognuno può fare per conto suo ecco basta così ecco questa è la proposta quando uno ha raggiunto il suo budget può decidere che ok qualcosa io do in offerta sì sì bene grazie infatti questo è un po' lo spirito della cosa ed è la cosa anche che un po' abbiamo previsto ecco l'interessante secondo noi di questo progetto è che non ci sono percorsi obbligati intanto ed è tutto si stabilisce tutto in onore e in fiducia è importante fare questo e anche per proprio sperimentare anche noi dal vero con coerenza i valori che ci proponiamo di attuare nel mondo reale almeno all'interno di questa comunità che al momento è piccolina ma che ovviamente può essere un ottimo test anche per misurarci e per capire tra di noi tutti questi aspetti senza che ci sia senza più mettere togliere dal centro il denaro che è l'unica cosa che conta nella società di oggi cioè metterlo da parte farlo diventare e riportarlo a quello che è semplicemente uno strumento e non il fine di tutte le cose buonasera a tutti allora racconto brevemente perché si collega a quello che stava accennando prima Barbara con il nostro agricoltore che ci fornisce della verdura è stato lui che ci ha insegnato a non buttare via niente ad esempio di tanti prodotti noi non sapevamo nemmeno come si usassero i gambi ci ha insegnato come usarli ci ha spiegato ad esempio quando erano rovinate le foglie solo dalla grandine tutta verdura che sarebbe andata buttata via e invece come poteva essere accolta con una minore offerta quindi ci deve essere proprio questa collaborazione tra chi produce e chi usufruisce di questi prodotti sono loro che ci hanno spiegato quando dovevamo fare gli acquisti proprio per avere accesso ai prodotti quelli nuovi come l'olio la farina il riso credo che venga poi tutto naturale cooperando con con chi produce ecco perché noi siamo abituati a comprare solo al supermercato e quindi vedi tutto sempre bello tutti uguali come soldatini le mele tutti uguali e invece ti spiegano le mele quelle alte quelle basse la frutta quella alta quella bassa tante cose le si impara cooperando con loro ecco buonasera Joe buonasera a tutti grazie allora in merito al trittico legato al pagamento intanto metterei come voce primaria scambio di valore e per quel che mi riguarda come mia posizione individuale toglierei anche il baratto e quindi lascerei le due opzioni scambio di valore o moneta per quale motivo dico questo il baratto mi comporta io do una cosa a te tu dai una cosa a me allora trasmutiamo anche questo perché un uomo di terra veneta ha i microrganismi effettivi e un uomo di terra campana ha delle farine possono scambiare in termini di baratto questi questi due prodotti e no perché lo scambio è lo scambio di valore quindi il baratto non esiste perché tutto tutto questo è contenuto già nello scambio di valore io produttore di microrganismi effettivi faccio un dono a te e tu fai altrettanto un dono a me dannomi le tue farine non è un baratto questo è uno scambio di valore oltretutto di competenze perché là entra in gioco anche non so l'agricoltore che mi sta dando le farine mi dice guarda che anche tu potresti produrre da te lo stesso prodotto se vuoi ti posso suggerire alcuni metodi e lo stesso avverrà da parte del produttore dei microrganismi effettivi ti insegno ti porto in dono anche questa competenza in che termini nei termini organizza qualcosa sul tuo territorio che possa portare questo dono e viceversa ok quindi c'è anche uno scambio di valore in questo senso al fine di raggiungere che cosa di raggiungere la possibilità di essere autonomi ognuno nel proprio territorio poi ci sono ovviamente delle implicazioni non so certe coltivazioni non si possono fare vicino al mare piuttosto che non si possono tenere in montagna però io adesso ho appena appena messo il nasino dentro nei microrganismi effettivi mi rendo conto che potrebbe non essere così grazie all'utilizzo di questo sistema e grazie anche alla possibilità la capacità di anche scambiare ognuno attraverso la propria sperimentazione quindi una rete ancora più allargata attraverso lo scambio di valore è bellissima questa proposta di Antonio da da Sioli mi è piaciuta molto e l'accolgo e si grazie ecco tutto qua Gio grazie a tutti grazie a te Franci fantastico si mi sembra che piano piano esca il valore da tutti questi interventi vostri interessanti preziosi e appunto aiutano proprio a ottimizzare il progetto però credo che siamo sulla strada giusta e possiamo fare un ottimo lavoro oggi quando sono andata al bar ho chiesto al barista ma salvatore fai un caffè buonissimo salvatore a custonaci andateci se passate di qua ma salvatore ma nessuno più ha l'abitudine di lasciare il caffè sospeso non so chi conosce questa abitudine eh che tu io io ogni tanto cure cioè tu non sai nemmeno che lo dai però lo dai mi è venuto in mente una cosa che butto così perché mi è venuto è doffiato la bocca in seno alle piazze potremmo fare come degli articoli a caffè sospeso oppure un carrello con un surplus da dedicare a chi ha bisogno in quel momento o chiederlo ai produttori stessi dire guarda se tu c'hai voglia c'hai un surplus che vuoi spedire assieme al prodotto che hai venduto questo va lì questo surplus va in quel carrello lì che è fruito da gente che in quel momento magari non c'è una lira oppure semplicemente qualcuno che compra lascia un carciofo sospeso non lo so che ve ne pare mi piace mi piace il carciofo sospeso è stato questo che vi ha conquistato è una buona idea comunque una bella idea vediamo poi Joe come come fare si si senz'altro senz'altro si si ciao raga siete bellissimi ecco Michele Michele dice non mi convince la dicitura dei trattamenti che devono essere solo prodotti esclusivamente naturali non altrimenti e lo sappiamo insomma che sarebbe l'ideale però non non tutti sono in questa modalità o comunque si apprestano magari a diventarlo io sono per mantenere una certa tolleranza tanto poi voglio dire in base alla richiesta che che le cose si riequilibreranno in modo naturale ma questo per carità è un mio parere personale noi dobbiamo anche ragionare sul fatto che questo mercato gli agricoltori che accederanno non saranno solo autodeterminati ma saranno anche agricoltori sistemici cioè nel senso che loro ragionano in altro modo per cui ci deve essere una cosa graduale e poi come dice Joe si comprenderanno magari anche tra agricoltori ci sarà uno scambio di informazione e diranno anche di semi perché ieri poi mi stavo anche dimenticando ieri al nostro incontro abbiamo in questo incontro a Milano abbiamo parlato anche dello scambio dei semi tra agricoltori magari potremmo anche creare un piccolo spazio dove tra di loro possono parlare e fare degli scambi di semi di metodologie di trattamento e dall'altra parte invece come diceva Stella invece magari potremmo fare un piccolo spazio dove noi consumatori potremmo avere delle piccole pillole di informazioni che magari possono essere appunto utili come diceva Stella su utilizzare tutta la pianta per cui non possiamo privare comunque l'agricoltore della scelta del suo trattamento sarà poi noi che acquisteremo col libero arbitrio sceglieremo tra un agricoltore o un altro agricoltore rispecchiamo il libero arbitrio in questo caso tu Franci demonizzi un po' troppo il baratto perché lo vedi in una funzione un po' troppo mercantile cioè io quando faccio il baratto non arzigogolo troppo nei miei pensieri quanto gli sto dando quando mi deve dare lui no il baratto è così che tu hai una cosa che ti interessa di mio io te la do e tu so che hai una cosa che interessa a me e me la dai ma in questo caso io non faccio mai il rapporto ma quello che gli do io vale di più quello che mi da lui vale di più no è semplicemente semplice la cosa tu hai una cosa che mi interessa io ho una cosa che ti interessa è semplice la cosa ce la scambiamo ce la scambiamo non c'è il commercio in mezzo semplicemente non mettiamo in mezzo il denaro quello lo lasciamo sulla porta io ho una cosa che ti interessa tu hai una cosa che mi interessa ce la scambiamo senza fare il valore senza dargli un valore io ti ho dato una cosa da mille tu me ne stai dando una da duecento no questo non vale questo non vale io ti do una motosega no tu mi dai tre cucchiai che mi piacciono punto il valore è quello non diamo un valore in valuta no lo scambio di valore è inteso come scambio di quello che è la mia competenza cioè il lavoro che io veramente faccio con un'altra cosa che mi può interessare ma il valore io almeno per quel che mi riguarda quando io vado a fare una cosa sto usando la mia competenza chiamiamola così adesso senza fare tanti ragionamenti quando uso la mia competenza no metto in moto il mio valore il che vuol dire che metto in moto le mie braccia le mie gambe la mia mente e tutto quello che è la mia conoscenza per andare a fare una cosa che io so fare bene e quindi poi l'altro l'altro uomo l'altra donna deve riconoscermi a me il valore che io in quel momento ho messo in campo questo per me è lo scambio di valore quindi o lui ha un valore a sua volta che può offrire a me cioè io sono andato lì gli ho zappato l'orto lui viene a casa mia mi sistema tutta la parte idraulica e siamo a posto così abbiamo messo in campo un valore entrambi cioè ci siamo mossi abbiamo fatto tutta una serie di operazioni per fare qualche cosa io la mia e lui la sua invece gli oggetti che quando c'è il baratto ci sono in mezzo gli oggetti che può essere roba da mangiare o roba di altro tipo e quindi questo è differente cioè hai capito è diverso il mio valore io quando ti do una cosa che già avevo io che ho comprato non è il mio valore è un valore che hanno fatto altri però io la metto in campo per scambiarla con te con un'altra cosa che mi interessa grazie allora questa cosa questo appunto che è stato fatto adesso attraverso la chat non mi ricordo come si chiamava Michele io veramente sono d'accordo con lui nel senso che secondo me dovremmo già partire dalla scrematura naturale che è avvenuta lungo gli incontri perché se no ci pensiamo all'inizio hanno aderito un po' tutti gli agricoltori anche quelli che diciamo facevano la protesta sul trattore che però che erano diciamo nell'Europa con l'Europa aspettandosi delle cose dal sistema e abbiamo scoperto che erano quelli che insomma non riuscivano neanche a rinunciare ai fitofarmaci non solo ai sussidi e a un certo punto naturalmente dentro questi incontri appunto è avvenuta questa scrematura per cui sono rimasti e gli agricoltori hanno già una certa etica e secondo me aggiungere le voci meglio includere anche coloro che continuano a utilizzare una forma classica anche un po' tossica non va bene per un semplice fatto che la nostra prerogativa come la presentazione no ci abbiamo lavorato che leggeranno questi produttori nel momento in cui entreranno nelle chat e nel sito è che devono lavorare legge naturale legge naturale significa che devono sottostare alla legge del ritmo quindi aspettare che un cibo maturi a suo tempo quindi non utilizzare pesticidi perché appunto come accade con il glifosato per maturarli anzitempo devono sottostare alla legge della vibrazione e quindi sappiamo bene come un prodotto ha un sapore notevolmente diverso proprio perché ha una vibrazione insita ci sono tanti modi di chiamare questa vibrazione e tutte le altre leggi e soprattutto abbiamo parlato di questi precetti che sono rispetto alla dignità alla salute alla vita e alla libertà che devono essere contemplati dal produttore l'accoglimento è stato diciamo dell'area tra virgolette degli autodeterminati verso i non determinati autodeterminati ma perché comunque trovavamo un contatto con questi non autodeterminati legalmente sul piano dell'etica perché altrimenti secondo me questo contatto questo connubio non può avvenire probabilmente la scrematura verrà in modo naturale ma è già avvenuta con gli incontri questo volevo dire cioè vi ho fatto 5-6 incontri quanti sono in cui alla fine ha resistito solo quelli che mantengono questa etica dentro il prodotto per cui non è da preoccuparsi nel senso che comunque se uno si vuole proporre un agricoltore se dobbiamo rispettare il libero arbitro di tutti dovremmo anche lasciare la possibilità a tutti di proporsi e poi magari invece questo agricoltore verrà stimolato al cambiamento no io non entro nel merito cioè non deve essere un discorso educativo il nostro anche perché il mio diciamo intento di cuore è quello di creare un'autostrada per chi fa uno sforzo in più non aprire strade che hanno a coloro che hanno strade già aperte l'intento nostro è creare una distribuzione per chi fa quello sforzo in più che ha anche costi in più perché il biologico costa di più la prima cosa che devo fare è ringraziare Valeria perché ha detto delle cose che condivido assolutamente da tenerne presente credo che una scrematura sia già stata fatta nelle discussioni passate ma credo che ce ne sarà bisogno di farne ancora in futuro dal mio atteggiamento punto di vista chiamatelo come volete prima di tutto viene l'etica l'etica del produrre l'etica del trasformare quelle poche cose che riusciamo a trasformare e di sicuro un modo corretto di presentarsi nell'esporre anche le nostre le nostre cose migliori io ho mandato su un po' di pasta giusto come assaggio perché come ha detto a Diana la pasta è finita cioè noi abbiamo un lotto di grano facciamo la trasformazione quando finisce finita per tutti noi non andiamo a comprare altro grano per poter soddisfare le clienti o i clienti no questo è il nostro prodotto e questo rimarrà la stessa cosa può valere per le farine la stessa cosa potrebbe valere per il pane che lo facciamo una volta a settimana chi si presenta chi si prenota nel gruppo riceve il pane lo viene a ritirare al forno di comunità oppure io lo consegniamo direttamente il mattino dopo quindi già l'etica è una cosa fondamentale che in questa chat noto che sia come dire molto presa in considerazione per quanto riguarda i prodotti non sono d'accordo anzi concordo con Michele prima che diceva questa cosa del naturale dovrebbe essere l'obbligo perché credo che la difficoltà maggiore è quella da parte di noi produttori quella di creare nei cittadini fruitori soprattutto una memoria del gusto perché la memoria non c'è più la memoria è scomparsa siamo stati abituati a consumare dei prodotti belli mangiati con gli occhi ma non mangiati col gusto perché questa è la grande distribuzione questa è l'agro l'agroindustria questo è il business che ci ritroviamo a combattere ovvio che io consiglio sempre di mangiare una mela bacata piuttosto che una bellissima melinda che ha ricevuto 38 trattamenti sulle piante non per fare cattiva pubblicità al consorzio assolutamente ho avuto modo di visitarlo ho avuto modo di fare tutte le mie domande a cui avevo già dato le mie risposte perché ero molto a conoscenza dell'argomento però quando un produttore comincia a nascondersi e a deviare la risposta io mi metto subito in guardia ed evito di fare artisti perché oltre a essere piccoli produttori ne facciamo solo grano e foraggio quindi motivo per cui abbiamo bisogno di comprare altro allora io l'olio lo compro di prossimità perché ho degli amici che hanno delle produzioni qua in zona ottimo olio c'è la varietà ravice che è una varietà eccellente il vino faccio la stessa cosa diciamo che questo mio modo di essere consumatore e produttore debba diventare come dire trasparente e di dominio possibilmente di quante più persone possibili perché io vi invito ad acquistare soprattutto di prossimità se trovate quei prodotti ovvio che le arance a Milano non ci sono le facciamo arrivare da Calabria Sicilia oppure dal Vesuvio come ho fatto io qua la settimana scorsa gli amici del Vesuvio hanno delle varietà particolari e sono arrivate qua 150 kg sono state distribuite a un gruppo di famiglie e e poi si ripete ancora ogni 15 giorni ora la modalità è semplice il baratto sì il baratto no il baratto non è possibile praticarlo a distanza è possibile praticare a distanza i valori magari mentre nei territori si possono praticare i valori quelli materiali io sono più dell'avviso che a distanza pratichiamo i valori come dire quelli veri quelli più importanti perché è ovvio che se viene il falegname a aggiustarmi la finestra o l'anta dell'armadio io gli regalo il pane come minimo dopo avergli chiesto quanto fa perché se mi dice nulla prendo qualcosa e gliela regalo ma non perché devo come dire uscire fuori dall'obbligo perché quello è giusto come pratica da seguire perché ad ogni lavoro ad ogni prestazione mi è riconosciuto un premio quindi possiamo parlare di baratto tranquillamente possiamo parlare di valori possiamo parlare di moneta per me vanno bene tutte e tre le cose la cosa fondamentale ripeto è quella di essere in sintonia con quello che va fatto nei luoghi sia di produzione che di trasformazione io ho parlato anche della possibilità e ho messo a disposizione il mio tempo a qualsiasi ora della giornata per consigliare magari come utilizzare la farina se è quella di grano tenero se è la semola di grano duro possiamo mettere a disposizione le nostre esperienze le ricette possiamo mettere a disposizione la ricetta di come si fa il pane in casa io l'ho fatto per anni oggi prima utilizzavo un forno elettrico oggi utilizzo un forno a legna ovvio che è cambiata la mia situazione però anche la la franci potrà farsi il suo pane se vorrà io gli giro la la ricetta i passaggi e avrà a disposizione un valore io credo che tutto questo è quello di cui dobbiamo come dire continuare a portare avanti e poi il resto verrà da solo perché io vedo e noto che qui c'è una grande disponibilità sia da parte dei cittadini consumatori o fruitori che da parte dei nostri come produttori etici soprattutto però una cosa di cui ripeto voglio che sia ben chiaro che va riconosciuto il giusto lavoro che qua quello che è venuto a mancare qua non da me quello che viene a mancare nel mondo è proprio il valore del lavoro che è stato mercificato schiavizzato reso precario e quant'altro e quindi mi fermo qua non ce ne sarebbe da dire tanti altri per prima cosa voglio fare i complimenti e ringraziare chi ha avuto l'idea cioè questa idea e chi la sta realizzando ecco perché è veramente straordinaria parlo come dire da prossimo fruitore di questi servizi poi entro subito velocemente nel merito di questi ultimi due argomenti allora quindi inizio dal argomento dei trattamenti allora io sono d'accordo con Michele e con Valeria e anche con l'ultima anima che ha parlato di cui non mi ricordo il nome questa idea penso che parta come dire dal presupposto di creare un nuovo paradigma come tante volte noi ne parliamo da autodeterminati quindi secondo me si può anche lasciare come dire la voce trattamenti per quanto riguarda la descrizione dei prodotti escludendo però nel modo più assoluto la voce chimica o cose di questo genere questo ovviamente secondo la mia opinione perché siamo anche noi ok che c'è la selezione naturale però se la facciamo anche noi forse acceleriamo come dire questa questa evoluzione e non lasciamo soprattutto più spazio a chi sino ad oggi non ha voluto fare altre scelte soprattutto nel momento nel quale vi è una conoscenza di altre soluzioni tra l'altro vorrei anche condividere velocemente una mia esperienza perché da ragazzo abitavo in Sardegna per diversi anni ho avuto la possibilità e anche tra virgolette la fortuna di poter consumare prodotti esclusivamente naturali sia vegetali che animali e vi garantisco che c'è una differenza abissale rispetto a quello che si può trovare nella grande distribuzione che può sembrare ovvio però chi l'ha provato se ne può rendere conto quindi questa differenza si traduce non solo in gusti in un sapore completamente diverso ma ovviamente anche da maggiori benefici di salute perché oggi tanti prodotti soprattutto quelli vegetali ma anche quelli animali che acquistiamo sono completamente privi o quasi privi dei nutrienti fondamentali che garantiscono che danno benefici per la salute ecco l'ultima cosa su cui vorrei dare esprimere il mio pensiero è per quanto riguarda il discorso del valore inteso come come dire richiesta da parte del produttore io penso che possa essere equo che comunque chi produce un qualcosa e lo offre possa attribuirgli lui un valore perché io in alcuni casi onestamente non saprei neanche quale potrebbe essere come dire un valore equo da offrirgli e non potendo magari interagire con altre forme come dire di scambio usiamo questo termine credo che forse l'attribuzione di un valore da parte di chi lo produce possa essere sicuramente un buon punto di partenza ecco quindi grazie ancora per questa bellissima realizzazione ho finito grazie a te Mario siamo contenti che stia incontrando l'apprezzamento di tutti insomma con i dovuti accorgimenti è un work in progress che facciamo tutti insieme mettendo ognuno appunto le proprie idee il proprio valore eccetera siccome abbiamo sentito Antonio che ha raccontato come lui coltiva ed è diciamo in legge naturale nel senso che utilizza un'agricoltura naturale e le volte scorse abbiamo sentito Maurizio che dal lago di Iseo fa autoproduzione di olio e anche lui ha spiegato com'è la loro il loro modo di coltivare in piccolo e fare la loro produzione e così anche Lorenzo nelle prime zoom c'era Andrea Andrea Zanzottera Sandro Passerini ecco possiamo anche ribadire l'invito di lasciare le loro email agli agricoltori presenti in modo tale che siccome siamo in costruzione di questo sito del mercato agricolo del popolo del Noie lasciandoci la mail per quelli che sono interessati a entrare in questa comunità possiamo poi attivare degli account direttamente noi per cominciare a dargli la possibilità di entrare postare la descrizione dell'azienda e tutti i dati relativi ai prodotti che vendono in modo tale che cominciamo ad attivare questo mercato quindi sicuramente alcune dei contatti ce li abbiamo già Diana Barbara Valeria ce li abbiamo già come email se altri volessero lasciarli noi saremo felicissimi di raccoglierli e quando saremo pronti vi manderemo appunto l'accesso per la piattaforma in modo tale da potervi dare la possibilità di inserire i vostri prodotti i vostri contatti eccetera bene e quindi niente dicevo abbiamo dato credo un quadro abbastanza ampio su intanto l'avanzamento su questa nuova piattaforma che ci piattaforma sito insomma che ci apprestiamo a realizzare e sono state anche molto utili i vostri i vostri suggerimenti le vostre impressioni mi sembra che comunque siamo sulla giusta strada e poi appunto le soluzioni che abbiamo valutato e ascoltato in quest'ultima fase quindi io vi ringrazio molto dell'attenzione vi diamo appuntamento ovviamente per i prossimi incontri vi faremo sapere qual è l'avanzamento dello stato dell'arte e ci vediamo presto quindi vi ringrazio tutti e vi do appuntamento a lunedì prossimo ciao buonasera 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 buonasera